Juventus Sampdoria secco 3 a 0 partita senza storia faccio anche la rima va bene allora prima di iniziare vi invito a passare dall'amico Andrea come va va lui juventino chi meglio di lui può commentare questa gara quindi andate a vedere il suo video ve lo metto in descrizione come va va è andata bene è andata più che bene alla Juve che guadagna altri due punti sul sul Napoli e si porta più sei praticamente scudetto in cassaforte sarà il settimo di fila cioè in Italia non c'è storia c'è un abisso c'è un abisso tra la prima che la Juve e tutte le altre squadre c'è un abisso perché perché c'è gente come un certo Douglas Costa che può partire dalla panchina e se entra in campo diventa devastante ti fa vingere le partite ma se non entra lui entra qualcun altro e comunque è devastante ci hanno una rosa ci hanno dei giocatori incredibili e io di Douglas Costa sono veramente innamorato ha fatto piovere e nevicare è un giocatore e adesso è nella sua forma più ottimale che se sta bene appunto fisicamente fa tutto da del tuo al pallone ma soprattutto a corsa a dribbling sa giocare di sinistra e di destra non per forza di sinistra come molti altri giocatori che hanno un piede quello e basta no? se la sa spostare sul destro se la sa giocare sul sinistro il terzo assist è stato magistrale ma è il secondo anche il secondo basta non ci sono solo parole al miele per lui ma non solo per lui per tutta la Juve che ha fatto una gara perfetta contro la Samp quest'ultima al di là dell'errore finale con Ovedes che ha messo in porta praticamente Zapata lì poteva fare meglio e sarebbe stato 3-1 cambiava poco al di là di quello forza di inizio ripresa c'è stata un'altra occasione per i Doriani sì un altro ruolo difensivo una palla persa da Chiellini e questo ha permesso a Gaston Ramirez di trovarsi in una situazione molto agevole per provare a pareggiare la gara ma al di là di questo solo ed esclusivamente Juve in campo una squadra che fa quello che vuole praticamente alza i ritmi quando c'è da alzarli si difende e si chiude bene in difesa quando c'è da difendersi lì in avanti è devastante cioè una squadra che che andrà a vincere come ho detto prima nel settimo scudetto ma ma è giusto così perché sono i più forti in Italia non c'è proprio rivalità non c'è non c'è rivalità con nessuno tutto qua non penso che bisogna andare poi ad aggiungere altro quando una squadra è più forte è più forte stop punto e basta niente aspettiamo il derby da interista lo aspetto veramente in modo con ansia diciamo e vediamo un po' cosa cosa capiterà pronostico sul derby io non lo faccio non lo voglio fare il pronostico sul derby fatelo voi sotto nei commenti lasciate un like passate da Andrea come va va e iscrivetevi al canale un abbraccio da Neschio se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina facebook iscriviti al canale youtube e seguimi su instagram ciao